e benvenuti a questo ultimo episodio di ears o ar molto bene ragazzi adesso pronuncerò il boss finale che sarà impossibile quasi sconfiggerlo come avevo detto nello scorso episodio e auguratemi buona fortuna come vedete quello lì è quello che era in qualche puntata più indietro che ha ucciso il capitano purtroppo qui c'ho pausa anche gli screndi che ti ammazzano nello appena sei all'ombra quindi io sarei la luce più possibile forse la luce via guarda 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 dai che ce la faccio la metina la ce la faccio l'ho fatta qua questo di questo ma è stato l'ho ucciso pur serio non ci credo ma dai no dico la prima volta c'è un mezzo tanti giorni all'ammazzarlo lo ammazzo così ma dai ragazzi i tanti boss diventano proprio facili dopo che hai finito i giochi li rifai veramente che delusione aspettavo una battaglia un po' più combattuta e vabbè è andata così oh Il ponte è rotto. Penso che da tagli una corda, no? Ho, ho, ho... Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Qualcuno prenderà un pochino di acqua, era così per dire, bene con un po' tutti morti. Allora, che facciamo domani? Quest'oggi, i Gears, sono riusciti a piazzare la bomba solare. Abbiamo distrutto le roccaforti nemiche, questa guerra è costata molto a tutti noi, il nostro mondo è stato scomvolto. Avete la mia parola, noi rinasceremo. Non riescono a capire, non sanno perché abbiamo iniziato la guerra. Non possiamo fermarci, non ci fermeremo, perché continueremo sempre a combattere. Fino alla vittoria, dove vuoi la morte. E non siamo ancora morti. E' molto bella raga, e la serie di Gears or AR finisse qui. Non il primo capitolo, perché poi ci sono altri due capitoli che intendo fare, ma più avanti. Però veramente non mi aspettavo che finisse così facilmente. Che vi devo dire, sarà stata fortuna. Molto bene ragazzi, allora... Questa è la serie finita e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!